Alberelli di Natale, scenografici, buonissimi e divertenti da preparare, un centrotavola stupendo, preparateli insieme a me! Sistemo la pasta sfoglia già pronta nella teglia. E con questa formina a forma di alberello andrò a formare gli alberelli, giocando poi con la punta su e la punta giù, recuperando così più sfoglia possibile. Nel frattempo vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di lasciare un like a questa bellissima ricetta e di condividerla con tutte le persone che voi amate. Inoltre vi ricordo di attivare la campanellina per non perdere le prossime novità! La sfoglia rimasta la metto da parte. Per poi spennellare con del latte gli alberelli e poi addobbarli con dei pettoli di mandorle. Andranno nel forno preriscaldato a 180 gradi per circa 15-20 minuti, ma nel frattempo mi preparerò la salsa tonnata. Quindi mi sono preparata due cucchiai di maionese, aggiungo una scatoletta di tonno al naturale, mescolano amalgamando per bene questi ingredienti fino ad ottenere questa salsa. E poi dei pettoli di insalata. E questo è il risultato dei alberelli. Devono avere uno spessore da poterli tagliare, dividendoli in due. Quindi li taglio in due aiutandomi con un coltello. Li divido a metà. In questo modo. E poi la parte di sotto andrò a farcirla con la salsa tonnata. Aggiungo del salmone affumicato. Pettoli di insalata. Per poi chiudere con la parte di sopra formando l'alberello. E guardate quanto è bello! Saranno un centrotavola davvero stupendo. E con questo vi auguro Buon Natale!